buongiorno a tutti ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV sul canale 17 abbiamo come tutte le mattine in diretta l'appuntamento con occhio ai giornali la rassegna stampa che comincia con il santo del giorno oggi è San Lorenzo Giustiniani il sole sorto alle 7.41 tramonterà alle 16.48 oggi avremo un cielo parzialmente nuvoloso con alternanza di schiarite temperature lieve aumento eventi di brezza tesa da sud mare poco mosso per domani sabato 9 gennaio avremo precipitazioni dal tardo pomeriggio deboli diffuse più probabili nelle zone interne nel settore centro settentrionale della regione le temperature sono in ulteriore aumento eventi da sud e per la giornata di domenica invece domenica 10 di gennaio cielo variabile con nuvolosità sulla costa invece nella prima parte della giornata avremo deboli e sparse precipitazioni soprattutto nelle zone interne attenzione ai venti di brezza tesa o moderati lungo la costa forti con raffiche fino a burrasca nelle zone invece interne nella prima parte della settimana la tendenza sarà di probabile maltempo seguita da una fase stabile da un fine settimana la prossima prossimo fine settimana con probabile peggioramento del tempo cominciamo a leggere i giornali adesso andiamo sulla pagina di Iesi a Iesi si vede farò tv quindi facciamo servizio anche là e dunque oggi apriamo con la pagina di Iesi del Corriere Adriatico perché a Iesi ieri è stata una giornata davvero difficile movimentata e drammatica per questo fatto di cronaca un uomo un uomo di 40 anni residente a Chiaravalle un operaio Moreno Mammoli litiga con la moglie una donna di origine polacca poi scappa con la macchina con l'auto fugge si schianta provoca due incidenti poi finisce contro un tir dopo aver preso il furgone ad un soccorritore un uomo che si era fermato per soccorrere lui tra l'altro che aveva tamponato una 500 ovviamente tutto questo in un momento di follia di lucidità ridotta al minimo e il Corriere Adriatico oggi racconta in questa pagina tutto quello che è successo c'è anche la foto dell'auto la foto dell'auto che si è schiantata ve la segno con l'evidenziatore giallo questa è l'auto che si è questo è il furgone scusate questo è il furgone con il quale si è schiantato vedete la foto della vittima quest'uomo sotto alcuni rottami una statale completamente bloccata chiusa per 6 ore 10 km di coda un'interruzione nel tratto gattuccio camponecchio che è appunto rimasta bloccata vedete per tanto tempo e il racconto il racconto dei testimoni ha scaricato questa donna sulla piazzola era fuori di sé raccontano poi a un certo punto leggerete nell'articolo di Frezzi sul giornale di questa mattina a un certo punto questo uomo ha chiamato il padre ha detto di aver scaricato in una piazzola di sosta la compagna di andarla a prendere poi le comunicazioni si sono interrotte e l'uomo 30 km più avanti prima di una galleria si è schiantato contro questo tir invadendo la corsia opposta e non c'è stato più nulla da fare questa è la cronaca sulla pagina di Iesi del Corriere Adriatico andiamo sulla pagina di Fano invece ieri tanti incidenti per il ghiaccio quindi fate attenzione non è come ieri ma insomma fate attenzione perché le temperature sono comunque ancora basse quattro feriti sono finiti all'ospedale coinvolti otto veicoli lesi due bambini code per il tamponamento all'uscita di Lucrezia della superstrada il carnevale invece ironizza contro i cardinali al lavoro i maestri carristi satira sul mancato rilancio della manifestazione un carro minore invece sul jazz intanto il Corriere pubblica queste fotografie con qualche anticipazione di cosa sarà di come saranno appunto alcune figure di questi grandi carri si lavora intensamente ovviamente per il primo corso mascherato che è già alle porte domenica 24 gennaio torna l'allegoria di Mariotti poi sul giornale troverete anche il prezzo dei palchi in prevendita da 150 a 180 euro invece 10 euro per sedersi su una poltroncina ancora cronaca soldi falsi nascosti nella ciabatta patteggia la coppia arrestata dai carabinieri sequestrate a calcinelli 17 banconote da 50 euro contraffatte un pescatore di 68 anni voleva piazzare piazzarne una in tabaccheria il resto lo aveva la compagna ieri c'è stato il processo per direttissima il centro maternità non si tocca Carla Luzzi di Sinistra Unita difende il reparto di Cicoli 888 nascite nel 2015 contestata l'integrazione nell'azienda Marche Nord che ha spogliato di servizi l'ospedale Santa Croce le Befane invece con i baffi arrivano in bicicletta Saltara festa alla casa di riposo di Saltara organizzata da Forbici che nell'associazione promuove la mobilità sostenibile poi domani invece in Duomo sempre a Fano la veglia della pace a favore degli ex detenuti Fanese vince invece gli internazionali di tennis si tratta di Marco Cinotti andiamo adesso invece sull'altra pagina del Corriere da Mondolfo statua in bronzo di velta e rubata ecco quello che resta praticamente solo il basamento di questo monumento dedicato al donatore Avis mentre a centro pagina la più bella stagione di sempre scintilla dal foco presentato il calendario teatrale a Pergola sei appuntamenti tra musica prosa e danza si parte a febbraio dalla pagina di Pesaro e Urbino invece siamo pronti a marciare su Ancona parliamo ancora di sanità sindaci e cittadini manifesteranno il 13 in occasione della convocazione della commissione commissione sanità poi sotto invece da Fossombrone dalle ceneri della Montefeltro salute il privato per il Celli e Fossombrone chiudiamo il Corriere Adriatico con la pagina di Pesaro la cronaca razzie alla Globo e all'OVS due negozi due negozi arrestati due ventenni ubriaca picchia e carabinieri che portano in carcere il compagno e finisce in cella anche lei sicurezza un protocollo invece per il commercio documento firmato in prefettura la presenza del sottosegretario Bocci va de mecum anti rapine creazione dei fondi per installare sistemi d'allarme e incentivare le convenzioni con la vigilanza privata cambiamo giornale adesso andiamo sul resto del Carlino c'è questa mattina in evidenza lo sfogo della mamma di Rocco che per molti ieri era un senza tetto in realtà dice la donna mio figlio non era un senza tetto parla Laura Ciacci dice troppe falsità sul suo conto sul conto di mio figlio sì era malato ha sempre vissuto però con me una malattia strisciante la depressione invincibile che ha condotto Rocco verso una panchina però la mamma tende ancora a ripetere precisare che non era un senza tetto così come è stato presentato ieri tra l'altro anche da molti telegiornali nazionali che si sono interessati a questo caso mettendole un po' in parallelo creando un po' anche quelle polemiche sterili fine a se stesse un parallelo tra gli italiani che dormono su una panchina e muoiono di freddo invece quelli che arrivano gli emigranti che trovano posto invece in albergo ospitati e magari pure pagati io mamma con figlio malato ho rifiutato un ricovero a Pesero parla Caterina di 48 anni che dice ho scelto Fano perché dobbiamo spostarci sbrighiamoci dice invece il primario di pediatria Leonardo Felici sbrighiamoci a fare l'ospedale unico e finiamola con i doppioni dice ancora non capisco certi campanilismi l'ospedale unico ottimizzerebbe le risorse ed il servizio sempre dal resto del Carlino così restituiamo alla città l'unico Torione Augusteo dono dell'architetto Radi al sindaco è uno dei progetti presentati dall'architetto Valentina Radi per le mura augustee tra via Garibaldi e via Nolfi si tratterebbe da quello che si capisce un po' non so se avete presente di quale angolo stiamo parlando qui c'è un chiosco praticamente qui c'è l'edicola ecco questa edicola qui mettetela qua siamo vicini al comune di Fano e avete capito questa è via Garibaldi ecco avete capito di cosa stiamo parlando ok quindi si tratterebbe di spostare probabilmente l'edicola e di liberare questo spazio restituendo alla città appunto l'unico Torione Augusteo che è quello nascosto attualmente nascosto là dietro a rischio le case di epoca fascista di Borgo Metauriglia architettura razionalista da salvare il dono del duce la borgata di Metauriglia fu realizzata dal regime fascista nel dal 1934 in tre distinti lotti che diede alla fine 115 unità poderali ed altrettante famiglie di agricoltori nel piano nazionale di bonifica dei terreni paludosi il duce donò personalmente 100.000 lire a testimoniare la capacità colonizzatrice dell'Italia dell'epoca dell'Italia dall'ora e sono queste fotografie che troverete sul giornale questa mattina la storia sociale del Borgo Metauriglia dagli album di famiglia di Marcello Sparaventi del circo Albatross 87 edito dall'Omnia Comunicazione vedete queste fotografie di un tempo andiamo adesso sull'altra pagina del resto del carino i nostri soldi date ai vecchi soci delle azioni della nuova banca Marche è la proposta della First CISL da finanziare con il surplus della vendita secondo Lanza la sua presenza è stata annunciata per un disguido comunicativo quella del l'incontro a Roma che doveva esserci appunto con Nicastro non c'è stato nel faccia a faccia tra le associazioni degli azionisti ai vertici dell'istituto non ci sarà il presidente invece Nicastro questa è la notizia poi vede i carabinieri vede i carabinieri alla porta reagisce male è stata arrestata anche la moglie per resistenza una coppia di coniugi sudamericani di Tavuglia in manette che hanno patteggiato i militari hanno dovuto chiedere sostegno per contenere marito e moglie andiamo adesso invece e chiudiamo con il messaggero la pagina principale principale quella di Pesaro è apre con la sanità un esposto contro la regione iniziativa del sindaco di Cagli mentre si vuole organizzare un sit-in sotto casa di Ceriscioli a Fano Pierini difende l'ospedale unico ex assessore della sanità della giunta Guzzi sciocco essersi dispersi nella disputa sul luogo anche qui il dramma di Rocco il nostro Rocco era fragile ma non abbandonato poi non solo divane altri bambini salvati dal mare e accolti a Fano e poi a centro pagina una fotografia di un Scavolini Walter Scavolini Sorridente che oggi compie 74 anni e sul 2016 appena iniziato Scavolini fa un'analisi e parla di ripresa siamo sulla strada giusta è uno dei principali simboli della città Walter Scavolini un imprenditore di lungo corso resta un grande appassionato di sport con il basket praticamente nel sangue e se Walter Scavolini che è un grande imprenditore parla di ripresa la strada è giusta dice diamo fiducia insomma c'è da stare in qualche modo da sollevarsi un pochettino e c'è da sperare insomma ecco quindi è importante anche questa dichiarazione che arriva da un imprenditore che comunque sta superando questo momento di crisi che ha colpito duramente anche il comparto del mobile e insomma Scavolini è uno che ci sa fare ospedale da Cagli parte l'esposto contro la regione anche qui siamo nelle pagine interne del messaggero chiudiamo con la pagina di Fano ospedale vanno ascoltati i fanesi non le sirene del campanilismo parla Giovanni Pierini il dottor Giovanni Pierini già assessore come dicevo con Stefano Guzzi interviene nel dibattito la cosa più sciocca è l'essersi dispersi nella disputa sul luogo cioè su dove costruire il nuovo ospedale bisogna andare avanti con l'integrazione senza farsi assordare dai galli troppo canterini poi altre notizie che troverete sulla pagina del quotidiano romano con l'inserto pesarese Carrara e Cucurano verso la nuova scuola il comitato dei genitori ha incontrato in municipio l'assessore e i consiglieri il telegiornale finisce qui grazie per aver seguito la rassegna stampa Occhio giornali torna domani mattina come sempre alle 7.30 salutiamo anche coloro che ci seguono in replica naturalmente e vi diamo appuntamento vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il nostro telegiornale arrivederci